Ciao a tutti da Davide di Audiocostruzioni ecco oggi voglio presentarvi la video vendita di dicembre 2017 la seconda parte scusate intanto una premessa d'obbligo io provo a dire dei prezzi è chiaro che ce ne sono tanti qualche d'uno posso anche sbagliarmi quindi andate a vedere sul mio sito www.audiocostruzioni.com e controllateli in alto a destra c'è una casellina con scritto usato occasioni nuove occasioni e li trovate tutti i prezzi corretti allora proviamo a partire allora qua abbiamo una coppia di sonus faber le concertino home con i fianchetti neri laccati molto belle con i suoi suoi imballi ben suonanti siamo attorno gli 850 euro poi dopo di molto interessante abbiamo advanced acoustic il lettore cd che è questo qui è un cd tutto a transistor di buona qualità telaio veramente molto bello siamo attorno i 200 euro atol ecco questo è un bello oggetto parliamo di dac ok dac fa anche da pre perché alle uscite regolabili e anche da ampli per cuffia col suo telecomando il suo imballo e quant'altro penso che siamo attorno alle 5 600 euro però quello lo andate a verificare voi per bene ecco qua sotto c'è un bello oggetto adesso lo faccio vedere un po meglio ecco vedete è un ampli per cuffia della musical fidelity col suo alimentatore separato molto bello per chi ama le cuffie quello lì è strepitoso siamo attorno ai mi pare 400 euro poi dopo andiamo a vedere qua proton ok pre finale 120 watt telecomando 800 euro poi dopo qua sotto abbiamo un cd mixer della pioneer bellissimo una figata questo qua e mi pare di averlo messo fuori a 600 euro allora ci spostiamo qua eccoci qua copland 301 col suo finale anche lui valvolare ok questo cosa c'è di bello il 301 è un pre con un'ottima entrata fono ok come dicevo tutto valvolare una cinquantina di watt siamo a 2200 euro rotel pre finale è diciamo la penultima serie uscita il finale è il 120 watt il pre all'entrata fono il telecomando è messo molto molto bene siamo attorno agli 800 euro allora sotto abbiamo marans un sa cd cd dvd che non costa molto mi pare 250 e sopra abbiamo un vincent che è un lettore cd che ha la particolarità di avere il telecomando con la regolazione del volume il telecomandino è quello che vedete lì no qui e quindi può essere molto comodo e siamo attorno poco sopra i 300 euro questo è un pezzo da 90 audio d'arex con le 8 e 45 è un finale da circa 30 watt costruiti in italia zona Lazio Roma se non ricordo male dal signor brandolini l'ha fatto veramente bene 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 e le 8 e 45 suonano da dio i trasformatori sono del mio amico alessandro di autocostruire quindi una vera e propria garanzia klipsch heresy queste sono il modello walnut nuove queste hanno un prezzo strepitoso chiedetemele perché non lo posso dire così al volo me lo chiedete e vi faccio un prezzo che è d'oro poi dopo andiamo avanti allora qui su troviamo una coppia dunque qua allora indiana line la serie tesi la cat e le piccoline forse sono le 2.41 sono praticamente nuove molto molto belle e a fianco quelle non ricordo il prezzo a fianco troviamo le tablette della prova c tablet 8 dovrebbero essere in ottime condizioni io vorrei dire 8 900 euro ma la confrontate bene sul sito e di fianco abbiamo delle sonus faber le minuetto sempre più o meno attorno ai 900 euro questi sono diffusori che suonano bene vengono chiamati anche barbapapà per chi li ha visti in televisione a parte gli scherzi sono era una ditta che un dipendente della dipendente progettista della bv che è uscito e ha fatto questi diffusori sono strani come cosa ve li do a 200 euro ma costavano un'esagerazione mi pare a 700-800 euro e tutto sommato suonano anche molto bene poi dopo abbiamo quad sono le ultime nate col twitter a nastro parliamo di roba nuova hanno un prezzo di destino di 1600 euro se l'importatore mi mantiene il prezzo penso di esserci attorno ai 1000 euro scontatissime poi dopo andiamo qua sotto vabbè un centrale della sonus faber ecco queste sono molto molto belle schnelle diffusori veramente belli dinamici molto piacevoli non so come dire leggermente colorati ecco chiamiamo così 850 euro ma questi suonano bene di fianco troviamo le sonus faber le toy tower no? modello letter le vedete qua in mezzo ecco vedete queste qua cosa hanno di bello queste qua sono state praticamente la prima serie di diffusori della sonus faber poi se volete contradirmi potete scriverlo sotto senza problemi diciamo un po' più monitor dopo hanno fatto le olimpica ne avevo fatto anche un altro tipo che adesso non mi viene mica un nome sempre diciamo diffusori un pochino più monitor poi andiamo avanti mi sposto mi sposto qua allora intanto qua troviamo queste AR14 che sembrano uscite di fabbrica sono in condizioni favolose non costano molto lo guardate sul sito il prezzo ma ribordate bellissime esteticamente poi andiamo qua e troviamo torres 165 con la mia base in massello la catanera testina pickering v15 c'è il giradischi è strepitoso è chiaro che purtroppo la base costa la laccatura me la fanno pagare l'ira di dio alla carrozzeria però viene veramente bene siamo appena sotto i 500 euro andiamo sotto troviamo l'Advance Acoustic l'X1 si chiama che fa tante cose lettore cd radio internet bella qua un prezzo molto molto interessante una bella radio tecnici un top di gamma un bel cd della Rotel siamo attorno ai 400 e qualcosa 4,450 e un NAD il 525 vorrei dire poco sopra i 200 euro con il suo telecomando andiamo a vedere qui cosa abbiamo allora qua abbiamo Mr. Liang un integratore con le 845 da 20 watt pesantissimo peserà 50 kg siamo attorno ai 1200 euro questo ha un bel suono un single hand in classe A veramente un ottimo suono questo Rotel è già fermato questo l'avete già visto che è il nuovo della Lissen & Co prodotto nuovo ibrido 80 watt attorno a appena sotto i 1000 euro scontatissimo poi Marans CD17 sempre una bella macchina siamo attorno ai 300 euro allora queste sono delle bestie dopo ve le faccio vedere anche bene parliamo di Usher quasi un top di gamma non ricordo il numero ma le troverete sicuramente sul sito perché voglio fare una recensione completa parliamo di 90 kg ogni diffusore strepitosi andiamo a vedere in questo angolino qua cosa troviamo Pioneer Ampli e Tuner 120 euro per chi vuole registrare bene Fostex questo qua un registratore CD professional non costa molto siamo appena sopra i 200 euro qua c'è un impiantino Tangent scusate T-Progress DVD ampia a tre canali e finale a due canali bellino siamo poco sopra i 200 euro 250 questa è una meccanica di lettura della Musical Fidelity veramente come nuova penso anche di averli in ballo per chi vuole un'ottima meccanica 400 euro poi andiamo sotto un altro masterizzatore della Philips 150 euro un bel tuner vintage attorno ai 120 euro e poi dopo direi che qua ci possiamo spostare qua che abbiamo abbiamo Technics un bel integratino col suo telecomando che suona bene a 150 euro una coppia di cavi Mid Terminator 2 attorno ai 250 euro guardate che bestione e poi dopo qua la solita roba un lettore CD della Technics che non ricordo quanto era il prezzo ma direi 100-120 euro e un tuner della Denon molto interessante che voglio farvi vedere mi metto qua ok vediamo se riesco ecco sono questi diffusori parliamo di monitor audio RX 6 come nuovi unico proprietario con l'imballo ok questi sono diffusori veramente bellini e anche ben suonanti molto molto lineari siamo appena sotto i 600 euro mi pare 5,50 ci spostiamo allora Ariston giradischi con la testina nuova Icon sotto i 200 euro poi dopo andiamo qua a vedere qua vedete sia qua mi allargo un pochino che qua sotto ci sono due bei giradischi adesso se andate a vedere le foto sono veramente in condizioni perfette parliamo di dual sotto con ritorno automatico anzi forse tutto automatico dovrei guardarci bene veramente belli mi pare 200 e qualcosa al dual e 150 al pickering questo è un bel pre parliamo di light audio lite audio light audio come si vuole pronunciare un pre completamente bilanciato col telecomando valvolare 4,50 sto parlando allora questo è un giradischi un torres 125 però aveva problemi alla regolazione dei giri quindi ho bypassato tutto il discorso regolazione dei giri va a 33 è uno spettacolo gira a 33 gli è stato messo un piatto in metallo è veramente bello la mia base in mogano massello siamo attorno ai 400 euro però è un bel giradisco lettore cd meccanica e convertitore della ticce ok quindi parliamo di vrds come meccanica siamo attorno ai 600 euro queste gbl sono già fermate dal mio amico renato di trento qua parliamo di infiniti col twitter di emite che non è quello piatto ma è quello tondo però è sempre un emite siamo poco sopra i 300 euro allora qua sempre le bestie della usher ok che adesso vi dico anche il modello esatto senza fare tanto che vi guardate la roba qua sono le cipi 85 71 secondo 9200 euro di diffusori e 87 kg cada una sono gigantesche va bene andiamo avanti Bose 901 ok veramente in ottime condizioni posso darvele anche con dei piedistalli che ho fatto io però su stile proprio originale siamo attorno agli 800 euro queste qua che vedete gli ho fatto anche un video con i loader anzi addirittura sono ancora meglio dei loader a 1500 euro di larga banda GBL LS60 questo è il prezzo chiedere perché ancora devo pensarci sono strepitose queste qua anche queste pesano 25-30 kg l'una sono diffusori che con l'imballo e quant'altro Canton per chi vuole dei diffusori lineari poca spesa e molta resa siamo attorno sotto i 200 euro quindi niente di esagerato bene abbiamo finito la seconda parte spero vi sia piaciuta come sempre e come ho detto all'inizio tutti i prezzi andatevi a vedere bene sul sito www.audiocostruzioni.com perché non sono sicuro di avergli detto delle cose giuste iscrivetevi al mio canale youtube per essere sempre aggiornati sulle ultime novità un saluto da Davide di Audiocostruzioni